Incontro piuttosto positivo ieri in comune per quanto riguarda l'iter di dislocazione delle centrali Enel dalla Cona. Sì, sono soddisfatto perché la parte privata, l'Enel e la Terna hanno dichiarato di aver già quasi ultimato il lavoro di progettazione. Quindi rimetteranno a giorni i progetti con gli allegati relativi al progetto. Per quanto riguarda la parte pubblica invece parliamo di provincia comune, la regione è stata assente per un problema legato al disguido della comunicazione, dell'invito. Comunque la parte pubblica si stanno attivando per redigere l'aspetto procedurale legato a un programma degli interventi ed anche alla convenzione. La convenzione tra il comune e la regione. Quindi adesso che cosa c'è? C'è che la convenzione deve essere prima elaborata e sottoscritta dal comune della regione relativa ai 2 milioni e mezzo di euro disponibili legati al masterplan. Una volta che la convenzione è stata siglata si può andare sull'accordo di programma che deve essere sempre l'entattuatore, cioè il comune, a elaborare l'accordo di programma. Quindi si sta procedendo anche in maniera spedita. Io spero, come uditore in questo caso, come Presidente del Comitato dei quartieri, mi sono augurato e l'ho detto pubblicamente che questa cosa possa procedere in maniera celere. Per dare al comitato e quindi agli abitanti della Gona un avvenimento, diciamo, da anni desiderato e sperato. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutto. Ci sarà un prossimo incontro in comune, quindi una prossima conferenza di servizio per il giorno 15 dicembre, a cui parteciperò come auditore.